e si ferma davanti scusami vedete che si è diventate stupide tutte prello sto cacchio di coso conviene andare avanti voi due ricordi tornanti subito lina tanto la vedi perché è pulita no no destra subito seconda seconda Grazie a tutti. Sì, in giù c'è anche quella più brutta, stretta, in piedi, ma salire di lì lo faremo quest'estate forse. È gasato oggi, è gasato! Oh, la prima volta che l'ho fatto bene. Oh! È la terza! Bravo! È la terza! Terza sei andato? Terza. Va bene. Perché mi fa galleggiare i suoi sassini e comunque quando gli dai va. Esatto, prende. È un'altra marcia marcia.